In occasione della nuova uscita in sala di Cannibal Holocaust si torna a parlare del famoso, famosissimo film di Ruggero Deodato. Quindi anch'io dedico un video, anche se insomma se ne è già parlato tanto, se è parlato tantissimo, però un piccolo omaggio, una piccola riflessione sul film, volevo farlo anch'io, lieto di far piacere a tutti quelli che seguono il mio canale. Ben ritrovati e ben ritrovati su Ingenere Horror, io sono sempre Greg e un benvenuto a tutti quelli che invece il mio canale non lo conoscono, quindi vi invito anche a vedere i contenuti che carico di volta in volta e perché no, iscrivervi al canale in modo da darmi ulteriore entusiasmo. Fa bene il canale, nuove iscrizioni fanno decisamente bene il canale perché è un modo per sostenere. Ma parliamo di Cannibal Holocaust, fin nel 1980 conosciuto, straconosciuto, quindi cerco anche di parlarne tante cose che dirò saranno già sentite, risapute, quindi ascoltatelo perché a modo di chiacchierata insieme, quindi magari commentiamolo insieme, commentate insieme sotto come fate sempre di solito. È il film che ha fatto parlare al tempo dell'uscita talmente tanto che poi la pellicola fu sequestrata, andarono, ebbero dei bei problemi gli autori del film, il regista compreso. Questo è un, diciamo che è un filone, quello dei film sui cannibali, che tanta fortuna ha fatto a livello produttivo per un certo tipo di filone di produzioni di cinema italiano. Non è il primo, non è il primissimo film sui cannibali, già anche lo stesso Ruggero Deodato aveva diretto Ultimo Mondo Cannibale, ma si cominciavano a farne e anche produttori esteri chiedevano che in Italia si producessero e facessero ancora più film di questo tipo. Non è nemmeno il primo mockumentary della storia, se proprio si vuole essere precisi, però a livello di sottofilone del mockumentary, quindi a livello di found footage, ecco che se si vuole incanalare, etichettare e definire in un certo senso una sorta di horror, questo qui che è un film avventuroso, però insomma lo si può catalogare anche come horror in senso lato, ecco che qui si parla del precursore, qui si parla di quel film che ha dato un po' il via a tutta una serie di imitazioni che ancora oggi sono in voga, perché è chiaro che il tutto è iniziato, o meglio si è iniziato a riparlare di Cannibal Holocaust a livello globale, a livello proprio mainstream, con il grandissimo successo di The Blair Witch Project, che di fatto ricalcava la struttura, anche se la storia è tutt'altro, la struttura e un certo tipo di idea del film di base di Cannibal Holocaust. Ma al tempo tantissimi film sui Cannibali proseguirono e al giorno d'oggi ancora si è proseguito con il mockumentary, con il fall footage, con il ragionare, con il cercare di fare dei film che potessero riprendere storie vere, o perlomeno qui in questo caso una storia che vera la sembra veramente per la grande tecnica con cui è stato fatto e realizzato il film, che narra la storia, tanto per essere molto sintetici perché appunto è talmente famoso il film, nella storia di quattro giovani ma famosi, famosissimi reporter che filmano in situazioni estreme e pericolose e vanno alla ricerca di tribù di cannibali nell'Amazzonia. Però non fanno più ritorno e quindi parte una spedizione la ricerca di questi quattro reporter e troveranno i resti e i cadaveri di questi e soprattutto il materiale che hanno filmato. Queste persone che sono andate a recuperare poi, che sono partite cercando e sperando di salvare i quattro giovani, tornano a casa con il materiale e lo visionano perché poi a livello produttivo si era già pronti a fare un sensazionale documentario in tv nazionale, però il contenuto di questi video sarà talmente scioccante che poi sarà difficile e impossibile proporlo al pubblico. Questo è un po' tutta la storia, è chiaro che il film ha fatto epoca, ha fatto storia perché per quello che poi è stato e ha causato ed è venuto fuori all'uscita del film. Innanzitutto c'è da dire che il film è stato girato in parte in 35 mm e in parte in 16 mm. Quello in 16 mm è la parte dedicata al documentario, quello che viene ritrovato, quello che noi spettatori vediamo come documentario e che al tempo, all'uscita del cinema, tutti hanno visto come un documentario che sembrava effettivamente vero. Tanto che lo stesso regista ha dichiarato quale sia stata la cura che ci avevano messo nel graffiare la pellicola, nel renderla più autentica possibile. Poi parleremo anche dell'autenticità di alcune scene del film, ma è un capitolo a parte di cui appunto parleremo dopo. La prima parte invece era il classico film in 35 mm, quindi la storia di chi parte per l'amazione per recuperare il materiale. Questa differenza di tecnica utilizzata era chiara ovviamente anche agli spettatori, quelli più sproveduti, quelli che di tecnica non ne sanno ma che hanno visto il film come film di trattenimento e che hanno percepito l'autenticità di questi filmati. Tanto che la censura intervenne subito, tanto che vennero chiamati subito i produttori, gli autori del film, ma si era deciso, Giro Deodato aveva deciso di, nel momento in cui i quattro attori, quelli che impersonificano e interpretano la parte dei quattro reporter, avevano firmato sul contratto di sparire letteralmente dalla circolazione durante la distribuzione del film. Quindi di fatto gli autori del film vennero incredibilmente accusati di aver filmato qualcosa di vero, dove quattro persone erano state realmente uccise durante delle riprese e poi utilizzato quel materiale per farne veramente un film. È chiaro che questo comportò un'enorme pubblicità al film, ma successivamente, perché inizialmente fu sequestrato, tolto dalle sale e la distribuzione avvenne in anni diversi, in situazioni diverse. Una distribuzione che fu tanto fortunata poi in seguito, soprattutto in Giappone, ma in tutto il mondo. In Giappone è il successo talmente clamoroso che quando uscì nelle sale il periodo era quello di E.T. e fu secondo solamente al famoso film di Spielberg. Film innovativo per l'epoca, siamo nel 1980, quindi scioccare le persone sia a livello visivo, quindi con i trucchi che sembravano reali, sia anche a livello di tecnica utilizzata, quindi sembrava di essere veramente davanti a un documentario. E poi, anche qui, apriamo la parentesi, un film che la veridicità la riscontra anche nelle scene purtroppo nei conforti degli animali. Alcuni animali vengono uccisi realmente e questo creò notevoli problemi, ma ne creò meno rispetto a quelli che sembravano essere le vittime umane che nel film sembravano esserci. Quindi di fatto il problema legato all'utilizzo di animali veri in certe scene crude, cruente e reali, sono state e sono soprattutto un problema degli ultimi anni, quando la sensibilità verso alcune situazioni e l'utilizzo degli animali nei film è diventata molto più sentita. Al tempo era meno sentita. Diciamo che, so che è sbagliato come concetto, come discorso, però il film è dell'80, in quel periodo non era, non è stato assolutamente l'unico film, l'unica produzione, anche famose produzioni estere e americane utilizzavano gli animali in un certo modo che adesso non ci si sognerebbe nemmeno di sfiorarli in quel modo. Tutti poi sarebbero diventati trucchi realizzati con animali finti, per quanto realistici potessero essere. Fulci, ad esempio, fu chiamato in tribunale anche lui insieme a Rambaldi per un effetto clamoroso di un suo film. Ma questa è un'altra storia, magari ne parleremo parlando del film di Fulci in questione. Però qui effettivamente tutti noi siamo contrari a certe scene e certe situazioni, però valutiamo e cerchiamo di valutare questa pellicola nel contesto, non dico tanto contesto storico perché sembrerebbe quasi di lavarsene le mani, però in un periodo storico in cui il film è stato fatto in quella maniera, l'utilizzo degli animali sul set è stato fatto in quella maniera perché poi vennero utilizzati per mangiarli, insomma è tutto discutibile, ma se ne è parlato tantissimo anche di questo, quindi è una parentesi che apro e che chiudo perché comunque se ne è parlato tanto, perché comunque è sbagliato, è sbagliatissimo utilizzare gli animali veri per determinate scene, ovviamente, però è stato fatto in un periodo in cui, ripeto, non era purtroppo l'unico film che utilizzava animali per scene di un certo tipo e quindi uccisioni di animali veri in pellicole ce ne sono state, quindi da condannare tutto quello che vogliamo ed è giusto, parliamo però di quello che è stato il film e parliamo di quello che appunto ha avuto come proi giuridici che sono stati quelli legati agli esseri umani, perché di fatto sugli animali poco c'era di interesse, questo sta veramente a confermare il fatto che se la produzione aveva scelto e in fase di sceneggiatura, perché c'era scritto in sceneggiatura cosa avrebbero fatto gli animali, è stato certo di fare questo, è chiaro che se poi il film non ha avuto problemi di quel tipo all'uscita è perché l'attenzione e l'opinione pubblica era tutta concentrata su quello che sarebbe capitato ai poveri attori, tra cui Luca Parparischi, che insomma sappiamo tutti che ora è un attore, è stato poi in seguito attore, a quel tempo era uno studente dell'Actor Studio ed era stato preso come debutante insieme agli altri tre protagonisti, quindi quel quartetto di reporter e quindi l'operazione commerciale, quella di nasconderli, di non renderli reperibili, era funzionata e funzionava perché comunque la pubblicità, il film, la ottenne. Parlando prettamente della, tecnicamente di quello che è Cannibal Holocaust, c'è da dire che qui Lugero Deodato ha dato, non lo so se abbia dato il meglio di sé, perché ha dimostrato e anche in seguito nella sua carriera di essere un regista capace, capace di mettere la macchina nella presa, questo non c'è dubbio, capace di riuscire a gestire un certo tipo di sette in situazioni difficili, perché in Amazone c'erano e le situazioni critiche ci sono state, in situazioni veramente in luochi e in cittadine sperdute che adesso probabilmente sono più facili da raggiungere, adesso sono più vivibili, ma il tempo era veramente difficile, era difficile lavorare ma quel tipo di produzione italiana esisteva, al tempo non aveva paura, era una sfida continua, in mezzo alle difficoltà si riusciva a portare a casa comunque sempre il risultato, e che risultato? Tecnicamente dal punto di vista registrico il film funziona, funziona tanto, ha un montaggio strepitoso, gioca su questo continuo montaggio tra quello che è l'aspetto filmico, ovvero e proprio è quello che è The Green Inferno, cioè la parte, il documentario che viene recuperato che noi tutti vediamo e si gioca molto grazie a un ottimo montaggio. Tra l'altro The Green Inferno è il titolo poi utilizzato anche da Eli Roth per fare l'omaggio, diciamo, quando lui fa la sua versione di film sui cannibali, utilizzando quel titolo. Ottima anche la fotografia, perché a livello di fotografia siamo davanti a delle difficoltà notevoli, nuove anche, nel senso che girare in Amazonia non era assolutamente facile e rendere il tutto credibile, tutto è realistico, appunto ahimè anche la parte degli animali, ma ecco, tanto per ritornare su quel concetto non c'era bisogno per rendere realistico il film, di utilizzare quelle scene, quindi ripeto ancora una volta, sarebbe, il film sarebbe funzionato, avrebbe funzionato benissimo anche senza. Con gli occhi di oggi stavo anche pensando se, io che sono contrario, contrariscono alla censura, se fossero tolte, fossero state tolte anche tutte quelle immagini, certo un pezzo di film sarebbe mancato, ma sarebbe funzionato tutto, con un gioco di montaggio si sarebbe potuto fare anche qualcosa, però ripeto, diventerebbe censura e non ci sarebbe più il film originale che al tempo è stato concepito in questa maniera, quindi diciamo che da questo punto di vista è per questo che voglio chiudere questa parentesi, perché diventa anche un discorso fuori dal tempo, perché ripeto, è una produzione del 1980, così è stata fatta e così per ora questo film ce lo teniamo. Però diciamo, montaggio e regia hanno fatto e fanno il loro, nota di merito anche per le meravigliose musiche di Rizzo Ortolani. Rizzo Ortolani comunque che anche qui in grande spolvero di colonna sonora ne ha fatte a decine, a decine, non si contano, non si fa fatica a contarle, ma veniva anche da Mondocane ad esempio, una musica la sua, tra l'altro le colonna sonora di Mondocane arrivò ad avere la nomination agli Oscar al tempo, Mondocane quel famoso, famosissimo film documentario italiano che, di Prosperi Jacopetti, che diciamo ha dato il là a tutta questa, quella che potrebbe essere anche la nascita stessa di film sui cannibali, anche se quello non era un film prettamente sui cannibali, ma è un film documentario e da lì è nata tutta la moda dei Mondo Movies, dei cosiddetti Mondo Movies da cui anche i film sui cannibali, diciamo, anche da lì derivano. Quindi il vero merito magari è proprio di Mondocane e poi da lì in avanti, grazie a non solo Deodato, ma a Lenzi, a tutto il resto, continuerà la moda dei film sui cannibali che, ripeto, tanto ha dato a livello produttivo nella cinematografia italiana di genere e, ripeto, li consideriamo horror anche se è un sottofilone avventuroso, però poi ci sono delle commissioni tali per cui non si può non considerare horror, un film di questo tipo perché di orrore ce n'è veramente tanto. Tanto che poi ci saranno commissioni tali che si arriverà addirittura anche al famoso zombie holocaust. Quindi abbiamo parlato delle musiche, del bellissimo montaggio di Vincenzo Tomassi, non ho citato il nome, ma è responsabile anche del montaggio di tanti film del grandissimo Lucio Fucci, ad esempio. Insomma, un film che ha più meriti che demeriti, e di demeriti ne abbiamo anche parlati, appunto, sulle scelte di alcune scene, ma ci sono anche delle scene diventate famose e anche lì ebbero dei problemi, dei grossi problemi gli autori del film, perché la famosa scena della donna impalata è un trucco meravigliosamente fatto bene, con pochissimi soldi, perché è stato utilizzato un sellino e un palo e non certo tecniche che gli americani stupiti avevano chiesto, appunto, adeudato quali tecniche fossero state utilizzate per quel meraviglioso effetto, fatto talmente bene che anche lì si era pensato che veramente una povera donna indigena fosse stata impalata. Sono assurdità, però, insomma, gli effetti speciali che si cominciavano ad utilizzare in un certo tipo di genere di film, erano così fatti bene, è chiaro che i problemi vennero fuori, potevano venire fuori, i problemi giudiziari non fu l'unico cannibale casta da Verne, ma vennero fuori. D'altronde Mario Bava diceva sempre che il trucco, se fatto bene, non si deve vedere, quindi effettivamente non si deve vedere che è un trucco, ma deve essere realistico e la donna impalata era effettivamente realistica. Tutte le altre scene sugli esseri umani sono di grande impatto e rendono tantissimo a livello proprio orrorifico, grazie a queste musiche bellissime di Rizzo Ortolani, insomma, un film che funziona alla grande, che ha tanti, tanti meriti, che ha dato tanto e che se avete la fortuna di poter rivedere al cinema, andatelo a vedere. Pochissime sono le sale che hanno proposto, mi rendo conto che è un film difficile appunto perché tutte le scene sugli animali, essendo integrale, in versione integrale del film, è difficile che un cinema si prenda la responsabilità di proiettare un film così ai giorni nostri ed è sinceramente anche difficile vederlo perché queste scene sono difficili. Io se rivedo il film lo vedo occhi chiusi, quelle parti lì e chiudo gli occhi. Ho sempre detto che sono contro la censura e quindi mi devo tenere il film per come è stato fatto, come è stato realizzato. Diciamo è discutibile quella scelta lì, io sono il primo a dirlo. Tutto il resto del film è fatto veramente alla grande perché le riprese aeree, le riprese nell'Amazzonia, il montaggio, gli attori tutti veramente molto bravi, credibili perché i quattro report sono veramente credibili, nella parte del documentario sembra veramente tutto vero da quanto è realistico. Merito di un grandissimo rigiro Deodato, scomparso da poco tra l'altro, che ha dimostrato anche qui e dimostrerà in film successivi di essere un grande regista e magari di non aver avuto quel giusto riconoscimento che avrebbe dovuto avere. Non si può considerare anche un film di denuncia sociale, Ruggero Deodato aveva anche ricalcato, aveva anche sottolineato questo aspetto, lo si può vedere come denuncia sociale. I selvaggi, i veri selvaggi siamo noi, quelli che col cemento abbiamo distrutto tutto e consideriamo selvaggi invece quelli che vivono il contatto con la natura e il modo con cui poi si va là a deturpare la natura e anche a distruggere tutto quanto è la voglia continua di mostrare tutto. Già nel 1980 il fatto di voler mostrare ed essere scioccanti a livello televisivo solo per la ricerca dell'audience, ecco che quindi una critica feroce all'aspetto di quello che possono essere le tv, un certo tipo di documentario, un certo tipo di tv sensazionalista che mira solamente all'audience e l'essere umano che cementifica tutto e che va poi a distruggere quella che è la natura stessa, ecco che questi aspetti di denuncia ci sono, ci possono essere. È chiaro che il film partiva dritto per dritto per essere un intrattenimento, un film d'avventura, come diceva Ruggero Deodato stesso che non è e non può essere considerato un horror, lo sappiamo, è più facile etichettarlo come horror perché fa parte di un filone, di un sottogenere poi di film sui cannibali che ha reso famoso appunto anche questo tipo di produzione italiana. Cos'altro dire se non il fatto che mi sono dilungato fin troppo? Già si è parlato e riparlato nel corso degli anni e già da anni se ne parla ulteriormente grazie a delle edizioni che sono venute fuori in dvd. Ne verrà fuori una versione della Midnight Factory anche qui curatissima, ne parleremo, ne parlerò successivamente. Questo è stato ed è un piccolo omaggio mio, personale, ad un film controverso, tutto quello che volete ma che fa parte, assolutamente parte della storia del cinema italiano, della storia di un certo tipo di cinema italiano ma che ha fatto storia in tutto il mondo perché è stato un successo mondiale e se ne parla ancora oggi e ancora oggi viene continuamente visto e rivisto da schiere di fan. La critica lo ha in parte anche rivalutato cercando di capire, di collocare storicamente il film e le scelte che sono state fatte, appunto alcune scelte all'interno del film stesso ditemi la vostra, so che l'avete visto tutti quanti, per i giovani spettatori che ancora non l'hanno visto recuperato nel cinema se ce la fate perché le sale sono pochissime poi però tutti gli altri che mi seguono sempre sul mio canale so che l'hanno visto, rivisto, rivisto che hanno anche chissà quali edizioni, ecco ditemi quali edizioni avete di dvd a casa in attesa dell'uscita di quello da Vidal Factory che secondo me sarà imperdibile. Ditemi la vostra e alla prossima!